Una realtà di promozione turistica dedica il suo principale evento alle aziende, perché? Perché noi siamo fermamente convinti che la promozione del territorio della Val Seriana e della Val di Scalve sia una promozione a 360 gradi e che debba abbracciare il meglio del nostro territorio, poiché fra i soggetti economici che sostengono la nostra attività vi è anche il mondo imprenditoriale, è evidente e tra l'altro con grande forza è evidente che le imprese debbano essere e debbano trovare il loro palcoscenico all'interno di questo workshop. Vogliamo ricordare che turismo, commercio e impresa stanno remando tutti nella stessa direzione che è quella del sostegno forte del territorio dell'Europa orientale Val Seriana e Val di Scalve. Qual è l'obiettivo del workshop di quest'anno? Parleremo di responsabilità sociale delle imprese, più in generale di tutte quelle iniziative che vengono poste in atto dagli operatori economici per migliorare se stesse e il sistema nel quale esse operano e vivono, sia in termini ambientali che in termini di welfare interno, quindi di benessere del proprio personale, che ancora in termini di risparmio energetico. Quindi una serie di iniziative che fanno crescere l'azienda in termini sociali e non soltanto sotto il profilo del profitto. Ad Asso Camun la conoscenza è stata reciproca, entrambi abbiamo la volontà comune di far crescere i territori delle prealpi e ovviamente della Val Camonica. Quindi siccome l'obiettivo è comune, ci si ritrova tra amici, si crea una rete, la si allarga e si individuano insieme delle potenzialità e degli sviluppi comuni anche per una razionalizzazione dei costi. Come si svolgerà questo terzo workshop? La mattinata sarà dedicata al convegno con un intervento dedicato ad Expo, la premiazione per il nostro concorso Volpe d'Argento e un intervento del filosofo professor Luciano Valle. Il pomeriggio invece sarà dedicato all'incontro tra aziende, quest'anno aperto anche alle aziende non associate, e al social meeting, quindi la valorizzazione di alcune delle più importanti associazioni sul territorio. La Camera di Commercio guarda naturalmente con interesse a questo workshop e alla realtà produttiva della Valle Seriana. Sì, guarda volentieri e qui abbiamo la cabina di regia di Expo del nostro territorio e questa iniziativa di promo serio è la prima che si sta proiettando in questa direzione, cioè verso Expo 2015. Noi abbiamo un anno, che è il 2014, di preparazione, lo chiamiamo l'anno di avvicinamento all'Expo e promo serio sarà una delle protagoniste. Pensate ai 300 soci di promo serio, alla attività dello staff di promo serio e all'importanza dell'avere creato una rete per la prima volta a Bergamo. Come pensate di portare un evento come Expo in provincia, nei territori anche più distanti dalla città? Bene, pensiamo di portarlo attraverso alcuni eventi che riguardano sostanzialmente tre filoni. Il primo è il turismo religioso, il secondo è il turismo culturale. Quando parlo di cultura intendo dire l'ambiente, le opere d'arte, le realtà presenti sul territorio, che sono tantissime. In un territorio, quello bergamasco, dove abbiamo laghi, monti, tutta una realtà bellissima da valorizzare. E poi un turismo anche legato allo shopping, legato al commercio, attraverso i distretti del commercio e attraverso quelle bellissime centri naturali, commerciali naturali, che sono le nostre piazze e i nostri borghi. Avrete il compito di premiare l'azienda migliore per innovazione. Sulla base di quali criteri? Allora, innovazione in ambito sostenibilità è un qualcosa che non riguarda solo il territorio bergamasco, ma andiamo all'estero, perché parecchi paesi stanno lavorando su progetti tipo smart cities, miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono nelle città. Quindi è una competizione a livello internazionale. Noi valuteremo, in questo caso, sicuramente il grado di innovazione dei progetti proposti, ma anche quanto i risultati di questi progetti avranno influenza e un certo grado di radicamento sul territorio. Quindi progetti che devono vedere, devono avere una vista internazionale, quindi è assolutamente indispensabile guardare all'estero e avere una vista internazionale, con ricadute però sul territorio. È importante che il territorio benefici di questi progetti, magari esportando alcuni dei risultati, ma le aziende devono rimanere qui, migliorare il territorio in cui noi viviamo e dare delle prospettive ai giovani che siano concrete, che possano rimanere qui.